ciao ragazze allora sono in macchina aspetto a mia madre che è la dottoressa e vi volevo far vedere cosa è addosso nel frattempo mi porto intorno per vedere se c'è qualche persona che vi guarda mi dice questo è pazzo questo è pazzo sto a farlo presentare qui allora ho messo un palco rosso una maglietta blu naturalmente un braccialetto rosso e l'anerino rosso orecchine rosse e l'acqua rossa e un po' di mascara e quando io e la madre vado a comprare una maglietta della Zomark Venture per il mio ragazzo perchè domani San Gaetano e poi andiamo a comprare una cosetta a mio rodello non so ancora poi non so cosa farò ah poi vado a fare la carta per la Paypal non so e vediamo perchè ho fatto una cosetta da da svendere da levare per fare tipo perline bustine queste cose quindi non so ancora non è sicuro che farò questa cosa però io sto programmando qualche cosa niente ragazze ho fatto questo bravissimo aspettando mia madre che ancora non viene per fortuna per fortuna c'è questo venticelli che è molto gradito le mosche che non sopporto bene l'odore si si ho questa forse faccio vedere le spese che ci sono non le ho zoppite anche perchè le persone mi perdono ok ce la posso fare mi sentite? questa macchina che passa non credo non credo non credo passiamo già che mi sento assai con la mia boscina piccolina mi devo andare a fare le sopracciglia le mosche non sopporto più ok i capelli ho fatto un pochino perchè proprio odio la piastra come state mi sentite a 200 gradi è fagiolato la piastra a 200 gradi la mosche mi sentite la mosche gli è entrata dentro il pantalone che c'è da nooo è proprio oscuro questa mosche mi sentite la bella da che ci fosse capellato mia madre non viene più c'è un pochino c'è un pochino c'è un pochino bene adesso ho abbastato la 500 rosa crina non vedo l'ora che è il 26 di agosto perchè faccio la mia prima guida non vedo l'ora non vedo l'ora anzi non vedo l'ora è facile guidare mi vedo l'ora dice che è facile guidare si sarà facile guidare ma all'inizio per niente poi non ho mai portato una macchina normale perchè porto la smart non si portava la smart perchè adesso non non la posso portare perchè mi devo insegnare una macchina normale ragazzi vi mando un bacione e un picchè in questo video volevo fare vedere cosa ho messo oggi naturalmente con il rosso e nel picchè sto passando per una persona mi saluto adesso prima che sia vicino ciao